bella a tutti ragazzi popoponze98 e siamo tornati in un gioco che non vi sto a dire ancora qual è perchè ormai è un abitue su questo canale allora mettiamo il nome e cominciamo che è sta roba se questo mi vuole chiudere a me poi ma va va vediamo vediamo se muore qui urro di gioia in aramaico quella vecchia di Gesù vabbè dai muori un po' ce l'ho se questo qua vuole chiuderlo no sono morto vabbè ok abbiamo cambiato nome abbiamo messo una nuova skin e cominciamo e cominciamo ricominciamo la ghiacchia un po' credo si ok ho cambiato sito perchè con la laggava rimettiamo il mio nome che sarà vediamo vater un nome bello e ora vater con questo è il mondo attenzione a questo qui che potrebbe morire è morto 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 quanti punti oh mio dio no 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 dove sto passando oh mio dio che rischio mi volevi uccidere volevi si si molto aspetta cambiamo stringhi questo qua porta sfriga ecco mettiamo il lumacone scusate il primo amore di sottofondo ma è la sedia che è un po' leggermente scassata ok vediamo di uccidere qua non vediamo di uccidere nessuno ragazzi ho ucciso un gigante e poi sono morto va ma vaffa ok era cresciuto tutto ma ora no ero vicino a uno gigante poteva morire in qualche modo strano e alieno speriamo che muore qua eccolo qua vabbè pensavo che fosse un pochino più grande deve morire top come si chiama? top spot is mine il primo deve morire però noi continuiamo a mangiare le particelle e ne ho ucciso un altro e ne ho ucciso un altro cioè io uccido le persone solo quando metto in pausa vero? certo oppure quando faccio i tagli ma è sempre così ok ora sono a mille qualcosa 1162 e sono 66 dai buonino diciamo io cerco di arrivare almeno nella top 15 che è pochissima però vabbè allora ora rimetto in pausa vediamo se non ammazzo qualcuno certo io devo ammazzare qualcuno va? ma vacca aspettate ora lo posso dire ma vacca cagare va ok ho ripreso la registrazione perché guardate qui chi c'è chi ci è venuto a trovare ti prego muori mi faresti un favore grande quanto sei te oh mia dea no volevo eh volevo dai water dai water forse è la skin che mi porta sfortuna vediamo ma perchè? aspettate oh punti c'è uno che si chiama big old banana oh è morto la gente è stupida la gente è extra stupida la gente è stupidissima eh beh anche io so stupido un po' eh un pochino ok ho ripreso la registrazione perchè potrebbe morire o potrei ammazzarlo no non è vero potrebbe morire la scelta più giusta uh Oh cibo mio cibo buono oh 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 mamma mia il paradiso eh si 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 il paradiso Non dirmi di no Ma dobbiamo aspettare? Dobbiamo seriamente aspettare? Aspettiamo Quanto scommettete che sarà morto? Non ti ho sempre amato Che mi guardi così Io ti ho sempre amato Te lo giuro Ok? Stavo per ammazzare sto tizio Questo qui giallo Questo qui color Homer Aspettate Credo che riesco Riesco A ammazzarlo No, credo che no Allora vediamo Ah, anche questo nero e giallo Non mi dispiacerebbe Allora, vediamo Dobbiamo stare attenti A mangiare anche Qui c'è tutto Un casino di gente Qualcuno dovrà morire prima o poi Ok, quel tizio giallo stava rischiando molto Eppure io Vediamo Dai muori, arcobaleno Ah, va bene anche questi punti No, non è vero Oh, è morto È morto tantissimo Oh, sono riuscito a girare Lo chiudo, sì che lo chiudo Sì che l'ho chiuso Ed è pure morto È morto anche sto tizio Quanti punti Sono a 3.000 Buono, dai 41esimo ancora 3.000 non è buono Però, vabbè Uh, è morto L'ho ucciso in realtà Però, vabbè Ok, ora sono a 6.000 punti Potrei far di più Potrei aver morto di più Molto di più Considerando che il mio regolo è 120.000 Prima di aprire il canale Comunque, vi ringrazio Non sono tanti per voi Ma sono tanti per me E vi ringrazio Che abbiamo raggiunto i 27 iscritti Ok 7.300 punti Ora non devo sprecarli Ora stoppo la regi E strazione Vediamo se muoio Aiuto Aiuto La stoppo, eh Io ho paura Però la stoppo 3 2 1 Prendi coraggio Prendi coraggio Prendi coraggio 3 2 1 No Non farlo No No Non farlo Ormai l'ho fatto Uh, no, no Questo qua mi vuole ammazzare Questo tizio brasiliano Mi vuole ammazzare Credo sia brasiliano almeno E se io al puro E' morto E' morto E' morto Sei un tizio Sei un grande tizio Bianco E' morto anche lui Oh mio Dio Sono tutti i miei Madonna Santissima Ma vabbè Ma vabbè Siamo arrivati da quello lì Oh Dio mio Ormai questi casi Che sono dentro Sono dentro Non è vero Non sono dentro Sono settimo Sono settimo Quinto Quinto Sono quinto Sì Quarto Sono quarto Dai Almeno una volta Che arrivo in classifica Uh, anche qui No Pensavo che ero io No No Perché No No Ero arrivato a 17.000 Magari se muore questo Ci possiamo rifare Dai Ok sono Stupido Beh si sapeva Credo Allora Siamo a 10 minuti Questo Durio Sì vabbè Questo Perché Stavo dicendo Video E dura Ho detto Durio Questo video Durerà Credo 15 minuti Quindi No no Miei 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 punti Miei Dai Per favore Bravo No 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 Eh ma sarei proprio Figlio di Tua mamma È morto anche lui Dai corri Corri Subito Vai Ok Sono miei questi Sta riformando Quella cosa di punti Chiamata paradiso Yeah Sto qua muore Sì che muore Non è morto Non è morto Dai no Cibo 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 for me Eccolo Eccolo la Ah dei sono miei punti So che siamo fratelli Però vai via Ho rischiato Ora sono a 3.000 Dai mi mancano Solo 14.000 Per arrivare Al punto di prima È morto È morto Malissimo Malissimo Schiacciato Da un treno Ok Devo stare Nelle vicinanze Però senza morire No No Ok un po' di punti Li ho presi Pochi Pochi ma ne ho presi Perché Perché Ah No Questa è l'ultima partita Ve lo dico No la gente Veramente È scema La gente Veramente È scema Ok, cerchiamo di ucciderlo Ci speriamo Vai, 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 vai Mi sta finendo No, non è morto, peccato Vabbè, ce ne saranno altri Io ve l'ho detto, questo video Dove era 15 minuti Tanto nessuno Sarà arrivato a questa parte, però vabbè Cibo, cibo mio Sono morto Vabbè, questa la facciamo che era l'ultima partita Allora, io vi dico Che per questo video è tutto Spero che Aspettate Vi dico che per questo video è tutto Spero che vi è piaciuto Spero che lasciate like Commentiate E lo condividiate Vi ricordo di lasciare più volte Il tasto del like Perché dal telefono non va Io vi dico Che porterò Altre volte sliterio Per chi non lo vuole Non lo riesco a organizzarmi per bene E quello che volevo dirvi l'ho detto E ciao 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 Ciao